L'aumento di contagi da Covid-19 in particolar modo della variante Delta fanno paura soprattutto lungo la costa vibratiana a nord della provincia di Teramo, dove negli ultimi giorni sono cresciuti i contagi. Territorio attenzionato dall'asli di Teramo a causa dell'affollamento di turisti, di ragazzi, di ritorno dalle vacanze, come nel caso di un gruppo di giovani di Tortoreto, risultato positivo dopo un viaggio in Spagna e anche per la vicinanza con la regione Marche, con la sua diffusione della variante Delta. C'è un momento di particolare attenzione per quanto riguarda i nostri territori. Ad Alba Adriatica i numeri non sono sotto controllo ancora perché sono 22 casi di positività. Di questi 22 casi, oltre la metà, comunque nella fascia di età sotto i 30 anni. Nel frattempo, per contrastare al massimo la diffusione del virus, continua la campagna Beach Covid-Free, ideata dall'asli di Teramo, che dà la possibilità, grazie a un camper che si sposterà lungo la costa della provincia, di effettuare sia il tampone, sia il vaccino, anche e soprattutto per i turisti. Abbiamo già individuato tre date, il 16, il 22 e il 29, presso la Bambinopoli comunale. Quindi il richiamo per tutta la città, per la comunità, è quello comunque di mantenere sempre un atteggiamento di prudenza rispetto a questa diffusione della nuova variante e invitare tutti a proseguire con le vaccinazioni qualora non l'avessero ancora fatto. Infatti tra i 22 positivi non abbiamo casi di ricovero e quindi questo già, diciamo, ci solleva un po' dalla preoccupazione. Però è certo che la situazione è attenzionata e deve essere costantemente monitorata, questo sicuramente. Ci siamo organizzati, ci stiamo organizzando, è parte della stagione, non abbiamo nessun tipo di preoccupazione. Chiaramente ci sono contagi, vanno gestiti, ma ci sono attività turistiche che stanno lavorando, quindi non dobbiamo lanciare messaggi sbagliati. Nessuno si dovrà permettere di adottare provvedimenti che possono restringere, attenzione massima. Però, insomma, dobbiamo raccomandare appunto l'utilizzo di mascherine, di evitare assembramenti, ma guai a mandare messaggi adesso ai tanti turisti che stanno venendo nella nostra città, nelle nostre città, che possiamo rischiare di restare in zona gialla. Ripeto, attenzione massima, come in tutta Italia, perché questa variante corre. Però, insomma, siamo in piena estate e quindi dobbiamo assolutamente cercare di affrontarla con senso di responsabilità, ma con spirito di accoglienza. Siamo pronti ad attuare tutte le politiche necessarie per contrastare anche degli aumenti di contagi. Noi abbiamo circa, insomma, ad oggi 20 contagiati, di cui due ricoverati, quindi è una situazione ben sostenibile, quindi, insomma, siamo pronti chiaramente a stare attenti anche nell'organizzazione di eventi e quindi, insomma, dobbiamo affrontarlo con serenità.